La Farnesina e il governo sono andati in automatico, una posizione che abbiamo preso da tanti anni e non è quindi una posizione ex novo. Questo non vuol dire che non sia arrivato il momento di cambiarla, perlomeno la penso così. Dunque non si tratta di una decisione di cui, diciamo a sorpresa, una decisione che nel corso degli anni si era sempre confermata, sicuramente ce ne siamo accorti tardi perché sarebbe stato più opportuno che questa discussione fosse prima. Il principio è che secondo me non si può negare l'origine, la radice, il senso della città di Gerusalemme, di quella meraviglia e di quello scrigno drammatico e prezioso che è la città di Gerusalemme.